Buongiorno cara amica di Fashion Channel e di Ticino Online. Rinunceresti mai a una vacanza in un hotel di 5 stelle perché hai qualche chilo di troppo? Certo che no! E allora perché vuoi rinunciare a vederti subito più attraente, affascinante e più bella per via di qualche chilo di troppo? Bene, sotto troverai l'articolo di qualche tecnica da mettere in pratica subito e poi se vuoi un consulto più minuzioso puoi chiamarmi. E ricordati, I'm not the best, but I will do the best for you. Thank you so much, ciao e alla prossima! Grazie! Grazie!